In questo breve video racconto per immagini il viaggio che ho fatto in Cina nel 2006 da Pechino a Shanghai ma molto zigzagando inoltrandomi molto verso ovest in Gansu, Qinghai e Sichuan alla ricerca soprattutto di cose buddiste e tibetane quindi in queste immagini vedrete bellissimi luoghi, templi, persone e cose che spero vi piacciano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti